Musica Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con i Bianchi e Rosso TB Sport Proiettati verso la gara di sabato, Bari-Cosenza, ma anche con delle retroscena legati alla trasferta di Frosinone Oggi ne parliamo con il regista Antonio Palumbo, che è Frosinone, lo stirpe c'era Buongiorno, pomeriggio a tutti E con Maurizio del Barviolo, diciamo così, perché diciamo c'è fermento Ieri si parlava di 5 mila biglietti già venduti C'è che ha fatto una proiezione tra i 20 e i 25 mila per Bari-Cosenza Tu sei l'esperto Maurizio Chiari a Tira Buonasera a tutti innanzitutto Come sempre c'è quel fermento Della vittoria fuori casa Della vittoria fuori casa e delle due vittorie consecutive La giornata è bella La giornata è bella, anche sabato e domenica si prospetta a 30 gradi Quindi l'uomo era allo stadio Sicuramente allo stadio, prima E poi si vede Quindi diciamo movimento, movimento Poi tu sei venuto anche perché vuoi dare qualche dritta ai tanti tifosi del Bari Che in questo momento stanno un po' in difficoltà con il rinnovo delle... Le fancard, praticamente le fancard stanno scadendo Sono scadute e stanno scadendo entro fine settembre La maggior parte delle fancard perché sono state fatte tre anni fa E di conseguenza adesso c'è da fare la fancard nuova E fare il passaggio degli abbonamenti da quella vecchia a quella nuova È un po' complicato però... Si può fare... Molti lo fanno online però non tutti sono in grado di farlo online Sì, però... Sì, ci sono dei vari passaggi... Sono due passaggi fondamentali Mi invia con un tutorial, possiamo vedere insieme? Se siamo pronti dovremo avere un tutorial relativo alla fancard Vediamo Passaggio dalla vecchia tessera del tifoso alla nuova tessera del tifoso Basterà cliccare sul sito sscbari.chiquetuan.it E aprire questa tendina Cliccare su trasferimento titoli Inserire i dati numero tessera e codice sicurezza della vecchia tessera E subito dopo basterà andare accanto e cliccare i dati della nuova tessera e codice sicurezza Inviare la richiesta E chiudere questa schermata Riaprire la tendina Cliccare stampa segna posto Inserire i dati della nuova tessera su il codice sicurezza Inviare la richiesta Stampare il segna posto A te sembra facile però per uno scarso come me Già mi sono perso dopo qualche Le 40-30 di secondi Però adesso Certo ci mancherebbe Noi comunque Oltre a quello siamo disponibili Presso i nostri punti vendita Siamo cercando di aiutare la tifoseria Chi ha bisogno sa dove trovarci Ci mettiamo a disposizione Grazie alla madonnella Tu dice il tuo ufficio il barbiolo no? Beh più o meno perché mio e di tutti quelli che abitano tra Madonnella e Umbertino Anche diciamo è un posto davvero di riferimento il barbiolo Da tantissimi anni Sempre di più poi insomma Anche per gli ex giocatori perché recentemente è venuto a trovarti qualcuno no? Sì è venuto Elia, Caprile È passato anche Stellini Poi siamo andati domenica scorsa Andiamo a vedere Altamura C'era a Benevento C'era a Campora Che si è infortunato Che abitava in Via Pisani Abitava Via Pisani 12 Quindi Sì Crea un bel rapporto Senti Caprile è innamorato del Bari Di Bari soprattutto Sì eh Come a 5 minuti viene qui Quindi come tanti altri giocatori Buon gustaio Adesso poi è titolare anche Sì sì Perché Meretto mancherà 40 giorni Infortunato non Meretto Quindi è un'occasione importante per Allora 080 5-0-1 9-9 9-8 Per i vostri interventi Comincio Poi torno da te Antonio Le vista vicino alla partita di Frosinone Ha generato Un ottimismo Che a volte sembra anche eccessivo Perché noi siamo fatti così Nel senso Perdiamo un paio di partite E sembra che Bari Deva andare in Serie C Vinciamo un paio di partite E pensiamo alla Serie A Tu le vista vicino alla gara di Frosinone Chiediti se hai fatto Bari si accende E si spegne in un attimo E' chiaro che Queste due vittorie convincenti Hanno acceso i tifosi Immagino che Sabato e domenica Quando gioca il Bari Il pubblico Andrà in massa Avremo almeno 25.000 persone Allo stadio Ma siamo così Io in realtà Già dalla partita Contro la Sampdoria Ma anche con il Modena Avevo visto qualcosa Dei concetti di lungo Di buono Chiaro erano mancate le vittorie Erano mancati il risultato C'erano state delle amnesie Invece la squadra Si è compattata I nuovi arrivati Sono riusciti ad entrare Nei meccanismi E devo dire che Ho visto una squadra Dominante Il Bari Dal primo all'ultimo minuto E' stata in campo Con la volontà Di vincere Di portarla a casa Ma senza mollare Forse dopo il 3-0 C'è stato qualche minuto In cui abbiamo Un po' mollato Infatti il Frosinone E' arrivato al tiro Ma in generale Proprio ho visto L'atteggiamento E ripeto Come ho già detto Mi sembrava Di vedere Il Bari Quando c'era Conte O forse I primi tempi di ventura C'è una telefonata Pronto Buonasera Sono Sipontina Principe Da Manfredonia Ciao Sipontina Ciao ciao Allora innanzitutto Volevo commentare Un po' la partita Del Bari Voglio fare i complimenti Alla squadra Perché ha sempre Mantenuto il possesso Palla Non si è mai arreso E quindi A questo punto Testa alta Cosenza Bisogna vincere E forza Bari Grazie Sipontina Grazie Ci seguo da Manfredonia Peraltro anche lei Fa la giornalista Insomma si occupa Di una serie di Squadre pugliesi Ma ha sempre Molta attenzione E molto interesse Rispetto al Bari A te vengono anche A prendere il caffè La mattina i tifosi E quando il Bari vince L'umore com'è Fammi capire Cosa cambia Perché i barisi In un modo o in un altro Il Bari c'è sempre No? Comunque O in caso di sconfitto Comunque in caso di vittoria Si parla L'argomento principale E sempre quello Però almeno In questo Ultimo periodo Stiamo parlando Positivamente Comunque si è visto Il cambio Proprio Da parte della squadra C'è fame di nuovo E comunque c'è gioco Quello che mancava Da tanta tempo Sai che non tornino Le tue non stop Perché insomma Mi ricordo che Quando c'erano i playoff L'altra volta Bari su Tirol Bari Cagliari Hai fatto fatta fatica Anche a dormire Lavoravi la notte Perché era impossibile Smaltire tutte le richieste Però Con molto piacere Me lo auguro Con tutto il cuore E comunque No no ma Dico Soprattutto Longo Ha trovato il vestito giusto Secondo me al Bari Perché il 3-5-2 E davvero Sembra veramente Blindare Appunto La linea mediana Dove Facendo più quantità E con la qualità Che stiamo trovando Perché facciamo un gioco E ci copriamo bene E ci copriamo bene Beh siamo imbattuti Da Non so quanti minuti Credo da Da quasi tre partite Forse Più di tre partite Più di tre partite Quindi insomma I risultati Con Sassuolo Prendiamo gol Quasi all'inizio Insomma Quindi sono quasi Quattro partite In realtà Insomma vedremo Con il Cosenza Con il Cosenza 080 5-0-1 9-9-9-8 Per i vostri Interventi Dicevi chi? Mai ti hai tornato Proprio Sì Ma anche Dorval Per esempio Ho visto fare una partita Incredibile Ha giocato 90 minuti Non si è risparmiato un attimo Cioè Quei giocatori Da cui ci aspettavamo Qualcosa di più E che pensavamo Di aver perso Forse di aver sopravvalutato Invece sono ritornati brillanti E quindi Non si può che fare i complimenti A loro sicuramente Ma anche a Longo E al suo staff Tu sei un regista Hai a che fare Con le telecamere Ti colpisce Come Longo Guardi la telecamera Perché Longo Ha questa caratteristica Gli occhi sempre sbarrati Guarda Vuole comunicare Anche con lo sguardo Guarda Ha anche un po' L'atteggiamento Della parlata Di Celentano Ah sì Perché poi intanto Si blocca Ma lui ha chiarissime Le cose da dire Pausa E abbiamo giocato bene Siamo riusciti A far sia La fase difensiva Che la fase d'attacco E Maita È un buon giocatore E anche come molti Nella Rosa C'ha questo atteggiamento Però dice sempre cose Pulite Perfette Parla al tifoso Parla chiaro Ecco questo piace Ai giornalisti Piace ai tifosi Ed è uno concreto C'è una telefonata Pronto Ciao Enzo Sono Daniele Ciao Daniele Ciao Enzo A prescindere La cilocina E sulla tosta Però io sono fiducioso Da tifoso Mi sento molto tranquillo Quest'anno A differenza Magari Non voglio essere Nei tifosi Del Castangiaro Detto questo Enzo È vero C'è un campionato intero Da affrontare Però Secondo te Cosa ne sarà Di questa squadra A giugno Non vuole che poi Come due anni fa Venga svantellata Cosa ne pensi Ciao È chiaro che è una squadra Con alcuni giocatori Di proprietà Ma altri giocatori Di prestiti Alcuni secchi Alcuni invece Con diritto di scatto Non vogliono andare Troppo oltre Cioè siamo Come dire È così presto È così poco tempo Che ci stiamo godendo I risultati Che non voglio andare Troppo oltre Con i pensieri Perché non riescono Anche così A vivere il momento Fermo le stando Che poi Un ragionamento Di questo tipo Andrà Andrà fatto Non eri solo In realtà A Frosinone Perché c'era Un altro personaggio Del mondo Dello spettacolo Che ti aveva fatto Compagnia Sì siamo andati Io e Paolo Sassanelli Che è tifosissimo Perché poi avevamo Un lavoro da fare insieme Quindi l'ho raggiunto A Roma E siamo stati insieme Qualche giorno Però ci siamo visti Proprio a Frosinone In tribuna Non eravamo soli Perché c'erano 1500 baresi Al di là Dei 1200 Ufficiali Ufficiali Era piena Di tifosi Del Bari E' stato anche Un piccolo Episodio Sì 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 Un piccolo episodio E fortunatamente È andato bene I tifosi del Fosinone E erano incavolati neri Per la sconfitta Sì Aspettavano i loro giocatori E poi si è passati voi E qualcuno ha riconosciuto Paolo Sassanelli Ma confondendolo Con un altro personaggio Con Gian Piero Ingrassia Era un suo Diciamo Compagno Su Classe di Ferro Il telefilm Che li ha lanciati E quindi sono arrivati Un po' di insulti All'indirizzo Di Ingrassia E per questo Ne io e ne Paolo Ci siamo girati Finché poi È arrivato Un epitoto Abbastanza Netto Netto Sui baresi E avete capito Che era voi Insomma E quindi Paolo è stato il primo A girarsi E voleva affrontare I tifosi Io mi sono reso conto Che erano in tanti Ed erano anche Abbastanza incazzati Quindi Non mi era sembrato Il caso E ho chiesto a Paolo Di andare via Prima che la situazione Degenerasse E fortunatamente Insomma È andata bene Anche perché Effettivamente Se c'era da essere arrabbiati Era da essere arrabbiati Con la propria squadra Non con noi Quindi Però Insomma Diciamo che È una nota di colore Che fortunatamente Rimane quella Bella Andiamo in pausa pubblicitaria Poi di noi insieme Con il Bianco e Rosso Di B Sport Degenerasse Degenerasse Sì, sì, sì. Sarai intento a svolgere il tuo lavoro? Il sistema di purificazione Kardashian si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Cuccovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETS meccatronicapuglia.it ETS Cuccovillo, il futuro sei tu. Eccoci insieme, seconda parte del Biancherosso TV Sport, sempre lì a vostra disposizione, 080 501 9998. Ma arrivano tanti messaggi con questa storia della fancard, perché molti temano che questa cosa possa creare anche degli toppi. Molti dicono, io sono abbonato, perché dovrei fare questa cosa? Com'è la regola, Maurizio? La tessera è scaduta, alcuni sbagliano che fanno rinnovo, non devono andare sulla voce rinnovo, la tessera deve essere nuova, una nuova fancard, devono inserire i dati. Questo si può fare online da casa? Solo online. Solo online? Sì, solo online si può fare. Quindi ripeti tu il procedimento, fermo un istante che qualcuno se in caso di estrema emergenza mi sembra di capire che sei disponibile anche a dargli una mano. Certo, ci mancherebbe. Al telefono no, perché non si capisce niente. Ma una domanda da un avvocato del diavolo, io che non ho la fancard, se volessi la fancard nuova mi dovrei comportare come quelli che a questo punto... Sì, il procedimento è uguale. Ma se andassi allo store del Bari, per esempio, non esiste, non lo fanno più. Ma poi a te la fancard neanche serve, serve solo per chi è abbonato, perché è scaduta, quindi non puoi entrare sabato allo store, se non ha la tessera nuova. Ho capito. Però ti dico... Quindi fammi capire, vai sul computer, qual è il sito? Sì, sul sito del Bari. Del Bari. Poi vai su fancard, c'è proprio la biletteria, si inseriscono i dati per poter comporre la fancard, a fine esito ti rilascerà un foglio bianco dove ci sarà il numero della nuova tessera e il nuovo codice sicurezza. Poi da questo codice qui trasferiremo il nuovo... Dove? Ti lo trasferisce? Lo puoi fare anche da casa, sempre sul sito dell'SSC Bari. Cioè non è che ti deve arrivare qualcosa a casa? No, ti arriverà a casa la baricard, però se la baricard arriva a casa tra due o tre giorni, però se non fai a tempo sabato non puoi entrare allo stadio, in automatico puoi usufruire del foglio bianco in acqua... Col foglio puoi entrare? Certo, sì, sì, perché c'è il codice a bar. E devi trasferire l'abbonamento dalla tessera vecchia a quella nuova. Ti ricordi che c'è l'abbonamento una volta, che si staccavano i biglietti? Come no, c'è l'abbonato in colpa su? Però l'abbonato è così, che si strappavano. Si strappavano. Venti 18 partite. Venti 18 partite. Venti 18 partite. Venti 18 partite. Era bello, bellissimo. Come i biglietti, sì, sì. Nella loro semplicità una cosa fantastica. 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. Quanto è bello andare in trasferta, perché i tifosi del bar hanno questa caratteristica. Io dico che alcuni magari farebbero fatica ad andare a trovare dei parenti, no? Però se gioca il bar a Bolzano trovano il modo di andarci, no? È una cosa strana. Guarda, una giusta riflessione, lo dicevo con Paolo l'altro giorno. No, perché è l'opportunità di... Non ti senti mai solo, perché in qualsiasi trasferta del Bari è come se giochi sempre in casa. Perché sei attornato da gente che parte da Bari o che comunque vive fuori e che ti ritrova e che ha voglia di condividere con te quell'esperienza. E poi è anche l'opportunità, volendo, di farti qualche giorno in più e di visitare la città. E voglio dire che anche in Serie B ci sono delle... Per esempio la prossima sarà Cremona. Cremona è una città davvero cittadina, molto bella da visitare. E poi soprattutto noi, insomma, che siamo amanti della buona cucina, abbiamo l'opportunità. E noi sabato, domenica, abbiamo mangiato benissimo. Che avete mangiato? Il menù è stato a Frosinone. Abbiamo mangiato cacio e pepe. Io ho preso la cacio e pepe. Paolo mi sa una matriciana. Poi l'agnello scottadito. Insomma, le cose tipiche laziali. Devo dire che siamo stati super soddisfatti. Ma se è così bello, perché noi lo facciamo e gli altri non lo fanno? Nel senso che la domanda è perché i baresi? Perché per la fine vediamo i settori ospiti di altri stati, con altre squadre, quattro gatti. Noi, mille e cento ufficiali, come diceva Antonio... La capienza era quella. Era quella, appunto. Sarebbero andati anche tremila. Tremila. Ma forse perché siamo comunque un popolo di commercianti, di navigatori, no? I levantini. Siamo abituati. Forse ci piace portare davvero i colori nelle altre città. E c'è anche l'amore per i colori e per la propria città. Te dico, Paolo si è girato quando ha sentito Barese di... Avrebbero potuto insultare sul personale... Non te lo devo dire io, ma una serie sui tifosi del Bare andrebbe fatta, tipo quella del Sunderland, queste squadre, queste società con una tifoseria molto particolare. Se non la fai tu, che la devi fare? Lo so, lo so. I problemi per le produzioni e le distribuzioni con i nuovi decreti attuativi del Ministero sono impegnativi. Hanno tagliato il tax credit per quasi l'80% delle produzioni, le piccole e medie produzioni e il tax credit era il 40% del budget totale di un film che ti permetteva di coprire le spese importanti. Quindi è un momento un po' particolare, però insomma, perché no? Telefonata. Pronto? Buonasera, pronto. Le volevo fare una domanda. Per cazzo si paga il biglietto? Io ho 13 anni, devo pagare il biglietto. Sì, 13 anni si paga. Poi il risultato, l'Under 16. L'Under 16, quant'è la riduzione? Curva 17 euro. Rispetto ai 20? Ai 20, sì. Questa partita è 20? 20 euro, sì, questa partita è 20. Va bene, grazie. L'Under 16 paga 17, l'Under 65 la donna e chi è possessore di fancard. 16, 3 euro di sconto. 17 euro, sì, sì. Beh, insomma, sono le domande da fare approfittando di Maurizio in studio. 080 501 9998, non so se abbiamo già un'altra telefonata, vedo ancora il simulo del telefono, aspettiamo. 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. Tra poco avremo un amico in linea. Torno da te, Antonio. C'è un giocatore del Bari che ti piace in modo particolare, anche visto con l'occhio del regista? Allora, quest'anno mi piace, forse spariglierò un po' le carte, Oliveri. Oliveri ha avuto un bellissimo impatto, è un ragazzo che lavora tantissimo, cioè fa tanta quantità e ha anche dei bei colpi. Non a caso, insomma, voglio dire, è del settore giovanile dell'Atalanta. Però, voglio dire, sarei un bugiardo se non dicessi che Falletti mi ha impressionato, Lella, i nuovi arrivati, ma anche Maita e Rinato. Ma soprattutto un focus sul fatto che negli ultimi anni abbiamo sempre avuto l'infortunato cronico di O, Setter. Quest'anno, diciamo, quel ruolo doveva essere colmato da Favilli, che è un top player. Secondo me, ne parlavo con Antonio, proprio di Gennaro l'altro giorno, e lui mi diceva che Prandelli stravedeva per lui, ha veramente i colpi di un grande campione. Se ritorna in forma, era un po' pesante nelle gambe, però, insomma, ci ha fatto vedere in quel quarto d'ora in cui ha giocato dei colpi incredibili. Quindi, io spero che salti anche questo fattore quest'anno e l'uomo deputato a essere l'infortunato cronico invece diventi il plus valore. Come ne viene i film, la sorpresa, è proprio questa sorpresa. L'outsider che spariglia le carte. Che esplode. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Pasquale. Ciao Pasquale, ciao, ciao. Finalmente il piacere di ricominciare a vedere calcio vero, di appassionarci, di appassionarci a questa squadra. Qui, diciamo, il punto di forza di questa squadra quest'anno è sicuramente il centrocampo. E' da lì che stiamo riuscendo, cioè, la svolta è lì con il baricentro più alto, con la maggiore dinamicità, eccetera. Due manifestazioni che voglio fare. La fancard serve anche in trasferta quando c'è una limitazione, e viene chiesto la testa del tifoso. Per cui io che vado in trasferta, la prossima di Cremona, spero di esserci esattamente, lì la curva più grande e i biglietti dovremmo riuscire a trovarli. Perché sta diventando un'impresa titanica per noi, tifosi, fare i biglietti in trasferta. Bisogna veramente stare lì, quindi ci servono settori come quelli di Cremona che ti fanno stare nello stadio in maniera più comoda possibile. E poi, insomma, dobbiamo cercare... Quindi la domanda qual è se serve per la trasferta? Cioè, la fancard è un'affermazione, serve anche in trasferta quando ci sono limitazioni che i biglietti possono essere acquistati dai possessori della testa del tifoso. Delle volte capita. Quindi la mia affermazione è una domanda perché volevo aggiungere al discorso che facevate e che ci vuole anche in trasferta questa testa del tifoso. Che poi, perché c'è la voce rinnovo quando non vi sarà quella nuova, non si capisce. Perché non si fa soltanto la voce acquisto, fancard. Il rinnovo, che di fatto non si può fare, ti constringe a perdere meandri dell'acquisto di una nuova carta. Crea confusione la voce rinnovo, era meglio fare direttamente acquista acquista... Lo conferma anche Maurizio, spiegaci un po', Maurizio. Allora, per rispondere alla sua domanda della fancard, ogni trasferta prima di ogni incontro, il martedì o il mercoledì, c'è l'incontro del GOS, che decidono se la partita, la trasferta è a rischio o no. E decidono loro se serve la fancard o no. Però fino adesso non è servita. Di solito serve a Palermo le trasferte più a rischio. Quella me la ricordo a Palermo. A Palermo c'è bisogno. E comunque c'è l'obbligo della fancard. Però per la maggior parte delle volte no. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Vi pronuncio che nella terza parte ci collegheremo con un doppio ex, anche se francamente io non lo ricordo bene con la maglia del Cosenzo. Ora capirete di chi si tratta. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Sì, ciao. Sono Franco Falcone. Ciao Franco, ciao caro, ciao. Ciao, io vorrei... Sono intervenuto perché voglio salutare innanzitutto Maurizio. Maurizio Viola, il bar Viola è la storia di Bari. Per me, ero un ragazzino di 14 anni, adesso ne ho 74, andavamo a prendere i biglietti con mio padre, un ricordo incredibile. E poi Maurizio è una persona eccezionale, cioè un grande lavoratore, è una persona di quelle che davvero servono al tifoso, ai tifosi in genere. Eh, questo è un bel complimento. Un grande saluto a Maurizio, al quale ho detto l'ultima volta che sono andato a prendere il biglietto due giorni fa. Questo è l'anno che il Bari va in Serie A. Grazie e arrivederci. Grazie Franco, grazie, ha detto una cosa bella, una persona che serve ai tifosi, che proprio si mette a disposizione e serve ai tifosi, perché in effetti poi quando sei in situazioni in casi limite, effettivamente è successo anche a me, ti ricordi le partite di notte, chi amai, o baricalia, ricorda le persone che vogliono come si fa a fare il biglietto, lui si è messo sempre a disposizione, come dire... Perché è una passione. Tu pensa, io non... Sparino i biglietti, poi improvvisamente torno a margine. Ma anche noi non capiranno che cosa succedeva, credimi, ancora adesso io non te lo so dire. Tu pensa, io non sono uno a cui piace il gioco, nel senso che scommetto, ma sto giorno passando davanti al bar Viola ho avuto un'intuizione, ho detto 3 a 1 per il Bari e sono andato a giocare il 3 a 1 per il Bari, quindi è gufato alla fine, volevo salutare con affetto Marco Pisardo per essere riuscito a tenere la porta inviolata, poi insomma lo aspetto così mi dà quei 140 euro che... Da quanti anni sei sti bar Viola, Maurizio? Dal 1936, mamma mia, 1930, nonno forse, la mia nonna, mio padre e poi stiamo continuando Pazzesco, 1936, parliamo di 88 anni, mamma mia, sempre lì, stupendo ricordare in attività veramente la storia di Bari. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi terza parte insieme, nella quarta invece ci occuperemo della Polimnia perché c'è lo spazio dedicato alla squadra di Polignano, pubblicità. Nuova Vitara Hybrid è qui. Suzuki è tecnologia da incentivi, fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggio Franco. Ogni giorno sono il meglio del mare per la tua spesa, anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Grazie a tutti. Stavamo ricordando con Antonio Palumbo un momento veramente triste, il gol del Cagliari, quella situazione e in effetti dicevo a volte la realtà supera anche quella che può essere l'immaginazione cinematografica, una tifoseria che nel momento in cui dopo tanta paura comincia a cantare perché si sente ormai vicino al traguardo, arriva la pioggia, è piovuto praticamente solo in quel piccolo prologo del dramma. Poi il gol del Cagliari, il silenzio tombale. Ma un silenzio rumoroso, quel famoso rumore bianco in cui tutti non avevamo il coraggio di guardarci perché eravamo rimasti, eravamo proprio ipnotizzati da quello che era successo. Diceva Ennio Flaiano, la vita più fantasia di noi. Questa è stata davvero una di quelle testimonianze in cui è vero. vero, vero, l'abbiamo vissuto e dico sempre che anche in situazioni di questo tipo non dico che vanno ricordate piacevolmente ma bisogna accettarle nel percorso di una passione insomma, fa parte di una grande passione anche quello. È una di quelle cose che purtroppo racconteremo per sempre. Ma Maita nell'ultima intervista ha ancora parlato di quanto quell'evento gli ha condizionato l'anno scorso. Perché noi pensiamo che i giocatori siano, come dire, omini con le maglie. In realtà poi c'è dietro una vita, un'aspettativa perché quella Serie A a molti di loro avrebbe cambiato completamente la vita. Invece si sono ritrovati a giocare di 1-1 la B, la B è un campionato strano nel senso che è un campionato dove un anno puoi far male e l'anno dopo può andare in maniera di attrazione opposta. In questo momento abbiamo il Bari che sta crescendo e lo Spezza che secondo in classifica lo Spezza lo scorso anno si è salvato così. Il Frosinone che invece, al contrario... Pazzesco, pazzesco. Stiamo cercando di perfezionare un collegamento. In realtà i collegamenti con lui sono sempre molto ma molto complicati. Però mi farebbe piacere, al limite, se non riuscissimo a vederlo in video, perché stiamo provando a fare un collegamento WhatsApp. Ora magari cerco di dare alla regia il suo numero telefonico. Vediamo un po' se riusciamo in un modo o nell'altro. chiedo alla regia, facciamo tutto in presa diretta, mando sulla chat dei tecnici di Telebari, cerchiamo di sentirlo. Che sta aumentando l'hype perché neanche noi sappiamo chi è questo giocatore. Ma quando lo vedi, altro che gli attori, meglio gli attori, questo è proprio l'attore protagonista. Che ha giocato anche a Cosenza. Ha giocato anche a Cosenza. Anche se a Cosenza io francamente faccio fatica a ricordarlo. Dico alla regia che ho inviato il numero telefonico. Se non riusciamo, ripeto, a collegarci col WhatsApp video con lui faremo diversamente. Il Cosenza, che ricordi hai di Bari Cosenza? Ma è un cappotto. Cioè lì ho pensato davvero che saremmo finiti in Serie C l'anno scorso. Perché squadra che doveva reagire, noi eravamo andati a Cosenza per dare un colpo di coda e per tornare a casa, quantomeno col pareggio, ma non ci sarebbe servito a niente. Volevamo andare lì per vincere e prendemmo quattro scopole con la squadra completamente immobile. Il linguaggio del corpo raccontò tutto. Mi ricordo anche la tua analisi, eri devastato come tutti noi e pensavi che da lì a poco avremmo toccato il baratro. Poi, grazie a Dio, sappiamo com'è andata, ma la ricordo molto bene quella partita. Dici bene. Poi ricordo anche Cosenza per me, però la partita fuori casa, in realtà, a Cosenza mi ricorda proprio l'inizio della mia avventura a Tele Bari. Perché l'ho già raccontato qualche volta, però visto che ci siamo, la racconto un'altra volta. Praticamente io all'epoca ero radiocronista di Bari Canale Cento. In alcuni stadi, ancora negli anni 90, ci ritenevano clandestini. Non volevano che entrassimo in tribuna stampa come radiocronista. Le radio private erano viste un po' come qualcosa di clandestino. Io non mi persi l'animo, feci un biglietto, perché si poteva fare ancora il biglietto al momento, e andai nel settore ospiti. Quindi mi nascosi dietro gli ultras del Bari a fare la radiocrona. Tu immagini che è radiocrona, nel senso che il frastuono degli ultras, io che provavo a fare la radiocrona, però dovevo farla, dovevo fare questa cosa che per Bari Canale Cento. In quel periodo Francesco Monteleone faceva la tribù crudele e seguiva la tifoseria in giro per l'Italia e vide che c'era un cronista, un giovane cronista, che faceva la radiocrona in mezzo agli ultras. Se si incuriosì, mi invitò il giorno dopo alla tribù crudele. Io da allora non sono mai più uscito da Tele Bari, sono passati parecchiani. Però come dire che la vita è fatta anche, quando dicevi di Fagliano, è fatta anche di coincidenze, di circostanze. E dico sempre, a volte, sembrerà paradossale, ma forse a volte le cose migliori avvengano quando il vento sembra contrario, no? Non vai in tribuna stampa, devi fare il biglietto, devi fare la radiocrona che è una situazione. Invece per me è stata una fortuna, perché in quel momento, se io fossi rimasto in tribuna stampa, nessuno si sarebbe accorto. Ma guarda, la carriera di Verdone, lui raccontava, lo dirò velocissimamente, fa la prima in teatro con tutti i suoi personaggi, teatro pienissimo, grande successo, ma hanno tutti amici, parenti, secondo giorno va a teatro e non si presenta nessuno. Sconsolato, insieme al proprietario del teatro, stanno lì per chiudere, si avvicina un vecchietto, tutto così di noccolato, che gli chiede dallo spettacolo, dice guardi, lo spettacolo non c'è nessuno, stiamo chiudendo, ah, che peccato, ero venuto per vedere questo giovane, moto d'orgoglio, fa aprire la sala cinesca, va in scena per questo vecchietto che poi sparisce, sembrava un film di Frank Capra, il giorno dopo viene svegliato dalla mamma, Verdone, e a nove colonne sul messaggero c'era l'articolo del più grande critico teatrale dell'epoca, con la scritta, è nato il nuovo Fregoli, e da lì poi la carriera sua è andata. Pazzesco, fantastico, fantastico. Abbiamo il collegamento? Non ancora, neanche al telefono? No, non può essere, guarda, ve lo dico comunque, io sto provando a contattare Pietro Maiellaro, perché Pietro Maiellaro ha giocato anche a Cosenza. Eh, ho visto la foto prima. La foto prima, però non riusciamo a contattare, mi fa disperare, guarda, oggi facciamo una cosa proprio che non si fa in televisione, però io voglio chiamare, ma dove sei finito, mi permettete questa cosa? Guarda, è divertente, l'ultimo intervento, come lo ricordo, è quello delle banane, che mi ha fatto ridere un sacco, l'anno scorso c'era ragione. Infatti, proviamo a contattare, se ne sarà dimenticato, perché Pietro è un fantasista, è un po' come di riprendere al momento giusto, perché o si dimentica o non riesce a fare bene il collegamento, e un perso, io lo amo per questo, perché è veramente imprevedibile come lo ero in campo, ti ricordi in campo? Come no? C'era certe partite fantastiche, poi qualche volta magari non gli andava neanche troppo, e non risponde, o avrà dimenticato l'impegno. Io ci ho flashato nella memoria di Maiellaro, ero allo stadio con mio padre, un 4-0. Vediamo i gol di Maiellaro, abbiamo i gol di Maiellaro, mettiamone la scuola, anche se lui non c'è. Con il Bologna dal centrocampo. Sì, sì. In questi, guarda che questo faceva Maiellaro, guarda. Guarda, che giocatore fantastico, perché abbinava tecnica a potenza anche, perché era un giocatore molto forte sulle gambe. Da Taranto arrivò. Sì, sì, da Taranto, guarda. Si va a prendere la palla e fa il gol, perché lui è stato un po' il giocatore, un nostro eroe, a cavallo tra della vittoria e San Nicola. Guarda questo tocco, eh. Sì, sì. Ebbè. Ma poi c'aveva una squadra, insomma. Guarda, guarda. Faceva quello che voleva, guarda che roba. Guarda questo gol, pazzesco il gol di Pietro Maiellaro. No, grande tecnica. E qui quando divenne anche re dello stadio San Nicola, lui dice chiaramente di se stesso che ha... Questo è il gol, guarda, col Bologna. Questo è il gol, è incredibile. Infatti, portiere un po' ci mette lo zampino, però lui già il fatto di averci pensato un po' alla Maradona, insomma, grandissimo giocatore. Ha giocato anche a Cosenza, però, ripeto ancora una volta, ogni tanto sugli appuntamenti o ci dà buca o non funziona WhatsApp, è così, va preso... A proposito di ex, noi ritroveremo Ricci. Ricci che non sta giocando, l'ultima partita non ha giocato titolare. Noi diamo sempre il terzino sinistro a Cosenza. Lo scorso anno Frabotta, ti ricordi? Frabotta. Che sembrava all'inizio la magia di Frabotta. Segnò anche. Sì, per i partiti, però poi è tornato nei randi, insomma, no? Sì, sì, sulla terra. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta, dicevamo di Moreno Longo. Si parla poco, però, del direttore sportivo, che è un uomo quasi invisibile, nel senso che non è, come dire, uno che vediamo tante volte in televisione, Magalini e di Cesare, perché comunque collaborano insieme. Ma ha detto che la sensazione è che, seppur tra difficoltà, perché si è capito che il mercato del Bari è stato fatto un po' in apnea, anche negli ultimi giorni, però credo che abbiano fatto una buona scelta, non solo dal punto di vista tecnico, ma io vedo le facce dei giocatori del Bari, sono facce belle, finalmente. Sì, ma è un po', noi ci siamo abituati al contrario, nel senso che a livello di ego... Ecco Pietro, mi fai rispondere, Pietro? Certo. Pietro, ti stiamo chiamando, siamo in diretta, adesso ti chiama la regia, ti chiamiamo su, ti chiamiamo, ti chiamiamo, io sto in diretta, tranquillo, ti hanno chiamato a Cosenza, quindi nella tv di Cosenza c'è... Ah, vedi. Adesso ti chiamiamo, vai, chiudi la telefonata e chiedi ciao, 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 ciao. Ecco, questo è Pietro Manilaro, vedi, manchiamo... Vabbè, bello, bello, bello della diretta. No, dicevo l'anno scorso, per un po' di anni abbiamo avuto un direttore sportivo molto egocentrico e quindi ci eravamo abituati un po' a quella figura un po' invadente, ingombrante, mentre Magalini è completamente all'opposto, quello che interessa è che faccia bene il suo lavoro, insomma, e finora con Di Cesare, con il duo Di Cesare, sembra che i risultati li abbia portati, quantomeno ha portato degli uomini che sono funzionali al gioco di Longo Orizio, dei ex giocatori qual era quello più simpatico? un giocatore che magari anche nel rapporto con il pubblico, con la clientela aveva un rapporto speciale di quelli che hanno frequentato il Bar Viola io ad esempio ero piccolo e me lo ricordo bene anche come hai detto Bruno Bolchi era un grandissimo amico di papà comunque era una persona molto schiva però quando stava al bar era completamente diverso si trasformava telefonate e poi cerchiamo di chiedere a leggere se riusciamo a beccare in qualche modo Magiellaro, pronto? pronto, ciao Enzo, Gennaro ciao Gennaro, ciao non so se ho rubato io la telefonata Magiellaro, perdovate no tranquillo ascolta purtroppo ho ancora una ferita aperta e tu me l'hai ricordata avete parlato nel fuorionde di Malta si purtroppo io dovunque vado compreso nel mio inturare nei miei amici non potrò mai perdonare Malta di aver avuto quel tunnel senza muoverlo la parola con il Cagliari non è superato ma tu sei fissato basta finito no purtroppo è più forte di me perdonatemi ma non riuscirò mai a perdonare di quell'azione grazie grazie Gennaro per il tuo intervento grazie Pietro Magiellaro qualche minuto qualche minuto diciamo di classe con noi ti saluto Antonio Palumbo e Maurizio del Barviola la biglietteria storica del Bari ma che stai ma che stai in palestra stai con la canottiera come stai fammi capire Pietro ci sei? Pietro? vedi adesso sta posizionando ci sei Pietro? ci senti? senti solo oh finalmente Pietro complimenti per il look un colore bello diciamo che non passa inosservato sobrio grazie grazie qui fa caldo che devo fare? fai bene devo andare a correre devi andare a correre ti tieni in forma come stai fisicamente che qualche volta tu tendi a ingrassare qualche volta non c'è male non c'è male stavo bene grazie senti Antonio che vuoi dire a Pietro a distanza di tanti anni non posso che ringraziarlo per il calcio lo spettacolo e quello che ha regalato a noi tifosi ero piccolino e venivo allo stadio per vedere giocare la squadra dove c'era il grande zar e devo dire i ringraziamenti non saranno mai abbastanza guarda il braccialetto bianco rosso con quel braccialetto hai fatto il collegamento a Cosenza l'hanno visto sì no 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 l'ho fatto via telefono no 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 ah l'hai fatto via telefono non si arrabbierebbero lì non ti preoccuparsi tranquillo che non si arrabbiano lo apprezzo anche come commentatore per la sua schiettezza insomma diciamo perché lui perché loro mi hanno detto pure sicuramente ti ferai più bari ma credo credo che non ci siano non ci siano non ci sono problemi sono presi nettamente è normale io nutro tanto affetto per il Cosenza gli ho augurato un ottimo campionato però è normale che io dico per il Bari per il Bari senti l'altra volta si è passata la storia per un intervento da noi dove io ti dissi ma sta stagione la possiamo retrizzare sì o no e tu dici sì ma retrizzare banale dicendo questa cosa come la vedi la stagione del Bari quest'anno è venuto in istintiva lì mi è venuto in istintiva perché era un momento così e poi alla fine insomma non è che ci abbia sbagliato no eh sì eh sì meno male che sia meno male che è finita è passato tutto insomma e quest'anno la stagione come la vedi Pietro per questi che sono i primi segnali come la vedi? sentiamo un po' di tempo che lo sto dicendo io credo che quest'anno sia sia un anno buono un anno bello credo che ci siano delle belle soddisfazioni da prendersi mi auguro solo che il gruppo sia coeso i vecchi aiutino in uova ad inserirsi presto e credo che sì penso che sia una buona squadra e possa creare problemi in giro insomma e credo che buoni giocatori ci sono gente di qualità c'è almeno per questi livelli e credo che anche i vecchi quest'anno sarà un anno di riscatto penso che si possa fare una buona stagione però voglio farti una domanda su Falletti perché per caratteristiche è il giocatore che diciamo più può somigliare diciamo così e non voglio fare un paragone però per caratteristiche è la fantasia diciamo l'estro il piede buono Falletti come ti è sembrato? Beh già l'altra volta lo dissi che il Vario aveva anche bisogno di un giocatore così insomma è arrivato Longo l'ha richiesto il giocatore è arrivato credo che un giocatore che se viene assistito e aiutato sicuramente è uno che può dare può dare una mano a questa squadra può far fare il salto di qualità perché tecnicamente è forte e hanno bisogno certamente i ragazzi hanno bisogno di sostegno di aiuto però io credo che allo stesso tempo i vari i vari Sibilli i vari Favilli i vari Lasagna questa è tutta gente di spessore gente che io cercherò in tutti i modi farlo giocare insieme questa è gente che veramente c'è da poter fare un ottimo organico prima di salutare Pietro Maurizio tu l'hai conosciuto personalmente il bar Viola te lo ricordi il bar Viola a Bari che è una biglietteria storica oltre che un bar famoso partire di Madonnella insomma ho capito ho capito io poi a distanza anche di anni posso svelarlo adesso un retroscena un retroscena ero raccata a palle allo strato della vittoria tu avevi la maglietta a fine partita appoggiata qua sopra passai correndo te la presi e me ne scappai mi besti a posto a posto non ho più magliette io Pietro grazie per la chiacchierata ti abbracciamo forte come sempre grazie a voi e speriamo bene forza a Bari sempre sempre saluto Antonio e tutti un abbraccio ciao un abbraccio questo è Pietro Maglietta una schietta spontanea divertente buono peraltro amo amo queste persone grazie a Antonio Palumbo grazie a voi grazie a Maurizio Barbiola adesso pubblicità e poi lo speciale dedicato alla Polimnia ciao la pescheria e cucina di mare a Bari Poggio Franco ogni giorno sono il meglio del mare per la tua spesa anche i piatti pronti e con consegna a domicilio vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244 l'evoluzione ci ha voluto viaggiatori il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina follow bus viaggia in tutta sicurezza tra Puglia Basilicata e Campania prenota subito su basmiccolis.it Buon pomeriggio e benvenuti allo spazio dedicato alla Polimnia Calcio la squadra del momento in eccellenza con l'allenatore del momento Michela Naclerio qui in studio con noi buon pomeriggio mister buon pomeriggio e grazie per l'invito un inizio mister scoppiettante di questo campionato di eccellenza io volevo subito partire andando a guardare allora la classifica perché è davvero una bella classifica tra poco parleremo del vostro cammino solo di una partita effettivamente poi sbagliata in questo inizio di campionato però le chiedo mister se si aspettava un inizio così bello così convincente e importante dei suoi beh sai all'inizio un po' di dubbi ce li hai perché comunque devi aspettare un po' le partite ufficiali però ero sicurissimo del valore di questa squadra perché comunque il direttore Frascate ha messo a disposizione degli ottimi calciatori e dopo ho alle spalle una società che mi supporta e una società seria società ambiziosa ieri abbiamo anche avuto con noi in collegamento scapi il presidente onorario il notario Titi D'Alesio che ha fatto anche il punto sulla questione stadio però tra poco ne parliamo perché comunque è un argomento di strettissima attualità intanto siete reduci da un'incredibile vittoria importante a Novoli per 3 a 0 ce li rivediamo i gol e poi la commentiamo insieme anche questa importante vittoria della polimia Viste una vittoria bella importante schiacciante contro una squadra che non aveva mai perso in campionato mai subito gol poi arriva la polimia e fa addirittura 3 Sì sì era una partita molto difficile con un allenatore del Novoli molto preparato era un ex giocatore del Lecce quindi in conferenza pre-gara c'erano un po' sfottuti il sano campanilismo il debito diciamo Barilecce però ci sta e comunque loro venivano come hai detto tu non avevano mai perso non avevano mai subito gol era una partita molto temibile hanno 4-5 elementi veramente bravi e giovani che comunque sicuramente saliranno di categoria noi abbiamo fatto la nostra partita che dovevamo fare e siamo contenti che abbiamo portato i tre punti a casa Beh soprattutto avete subito voltato pagina dopo quell'imprevisto K.O. interno contro il Bicelli in vantaggio per 1-0 nel primo tempo in superiorità numerica poi la rimonta del Bicelli però la squadra ha reagito immediatamente e in Coppa Italia con il Bitonto è proprio a Novoli Sì ma è stata una sconfitta non tattica o tecnica ma è stata una sconfitta più che altro mentale perché comunque ci sentivamo forti sono partite che purtroppo può succedere soprattutto alla nostra squadra che è una squadra giovane è un incidente di percorso che ci farà bene perché comunque anche le batoste fanno bene e l'abbiamo dimostrato andando a passare il turno in Coppa Italia a Bitonto che non era facile e vincendo a Novoli che era difficilissimo Domenica giocherete alle 16 a Mola contro il Canosa le chiedo mister che partita si aspetta ma soprattutto quanto incide poi questa questione stati non poter giocare al Madonna d'Alto Mare prima abbiamo parlato della sfida con il Bicelli poi anche giocarla a porte chiuse no anche psicologicamente può in qualche modo incidere poi anche sull'attenzione e l'attenzione della squadra beh innanzitutto noi non dobbiamo avere scuse come lo dico sempre ai miei calciatori dopo è chiaro che comunque un po' incide perché un conto è avere il supporto dei tifosi dei tuoi familiari è un conto non vedere nessuno un po' diciamo che è successo con l'Unione Bicelli dopo Domenica siamo contenti di poter giocare davanti ai nostri tifosi seppur in campo neutro però per noi è fondamentale perché è una sfida difficilissima e non ci dimentichiamo che il Canosa è partito con i favori dei pronostici che era una delle 3-4 squadre candidati a vincere e sicuramente piano piano gli salirà la china Parlando di singoli impatto travolgente di Ramos che giocatore è? Un giocatore importante un giocatore che può fare carriera allora noi io sono contentissimo di averlo tanto stiamo vedendo il gol questo è un gran gol nel controllo nel controllo con la suola non è un controllo che lo fanno tutti è un controllo da giocatore però lui comunque si deve mettere si sta mettendo a disposizione della squadra perché noi per me viene prima il gruppo e dopo il singolo perché comunque con un singolo non si va avanti e quindi lavoriamo di squadra e stiamo facendo bene sotto questo aspetto beh non dimentichiamo gli altri perché c'è ancora l'Eterno Manzari quindi resta comunque un ragazzino di una squadra comunque costruita con bei prospetti mister sì sì ci sono guarda io le ho fatte tutte le categorie diciamo dalla Serie A all'eccellenza e ti dico la differenza non è tecnica nei giocatori ma mentale quindi con loro sto lavorando molto sotto l'aspetto mentale perché a livello tecnico non hanno niente di meno dei giocatori che giocano a livello professionistico gli addetti ai lavori dicono Michele Anaclerio non c'entra nulla con questa categoria che effetto fa anche poi previsione magari di un futuro più importante io sto facendo il mio percorso sto partendo dal basso come sono partito da giocatore perché da giocatore sono partito dal basso sto facendo la mia esperienza è chiaro i complimenti fanno bene però so come funziona il calcio una volta sei bravo l'altra volta quando perdi sei giuccio io sono una persona equilibrata cerco di lavorare anche grazie al supporto del mio staff il mestiere dell'allenatore è quello peggiore no mister perché poi chiaramente se le cose vanno bene come diceva tutto va bene se le cose vanno male la colpa è sempre dell'allenatore primo anche perché in Italia siamo tutti allenatori però vabbè si sa che è così però ripeto io non guardo il risultato guardo la prestazione della squadra dopo si può vincere perde o pareggiare conoscendola meglio modulo di riferimento quello che le piace di più e soprattutto i principi di gioco che prova a trasmettere anche i suoi ragazzi guarda io l'anno scorso quando sono subentrato abbiamo cambiato modulo da 4-3 siamo passati a 3-5-2 perché aveva un play che ce lo permetteva perché per me 3-5-2 è un bel modulo però c'era bisogno di un play non avendo trovato un play quest'anno abbiamo optato per un 3-4-2-1 dove ci sono le due mezze punte come Ramos e Lanzoni che giocano tra le linee il principio di gioco è aggressività e bisogna con tanto agonismo tanta fame dopo è chiaro che bisogna giocare a pallone bisogna fare un buon calcio però se non c'è la fame se non c'è l'agonismo se non c'è la voglia di vincere non si va da nessuna parte e quella è la prima cosa che ci deve essere nelle mie squadre ha una natura di riferimento una natura che guarda con particolare curiosità prova a studiare e capirne anche poi i trucchi per il modulo che abbiamo guardo spesso l'Atalanta di Gasperini però ho avuto la fortuna di essere allenato dal mister Pioli dal mister Castori dal mister Iachini che purtroppo a Bari non ha fatto bene da loro ho imparato tanto e mi confronto ancora con loro che secondo me è molto importante confrontarsi soprattutto con gente molto più brave di te e non nascondo che il mister Longo che all'inizio faceva un 3-4-2-1 pure lui è un allenatore cui seguo e a cui quando a breve avrò tempo andrò sicuramente a seguire gli allenamenti del Bari che impressione ti sta facendo questo Bari di Moreno Longo anche all'inizio quando i risultati non venivano come ho detto prima io non guardo i risultati guardo la prestazione sicuramente il Bari giocava bene aveva dei suoi limiti dopo con il mercato con gli ultimi colpi che ha fatto la squadra diciamo che si è ripresa però a me come squadra piace il Bari è chiaro che dopo comunque sono sempre alla fine torniamo sempre ai risultati che condiziona tutto però per me ripeto il mister Longo è un bello allenatore purtroppo si vive di risultati mister Nalgallio si è fissato un obiettivo un sogno proprio a livello personale più indipendentemente da questa stagione ambiziosa anche alla guida della Polimnia io come ero da calciatore ma come sono nella vita non mi pongo limiti io ora voglio allenare in Serie A ma non lo dico per presunzione perché comunque è un mio obiettivo dopo non ci arriverò pazienza però ce l'ho messa tutta e dopo è chiaro che comunque il Bari è sempre il Bari comunque perché comunque l'ho visto sotto tutte le vesti mi ha portato il mio padre da piccolo ero un ultras e sono diventato un giocatore del Bari quindi è chiaro resta un sogno il primo amore non si scorda mai hai detto bene anche da calciatore con grande volontà umiltà e spirito di sacrificio hai raggiunto livelli importanti quindi chiaramente il nostro auguro è che tu possa raggiungere anche da allenatore comunque traguardi assolutamente importanti ultima battuta per quanto riguarda la Polimnia il Barletta fa un campionato a parte una squadra costruita chiaramente per vincere ma mister si può sognare certo che si può sognare noi ma noi non ci poniamo limiti ripeto noi dobbiamo dare tutto tutto quello che abbiamo lo dobbiamo dare dopo è chiaro che il Barletta non lo scopro io a giocatori di due categorie superiori però ripeto noi stiamo là giocheremo ogni partita come se fosse l'ultima e dopo alla fine del campionato vediamo dove siamo arrivati perfetto un ringraziamento al mister della Polimnia Calcio Michele Anaclerio mister grazie in bocca al lupo per questa stagione ma in bocca al lupo anche per la sua carriera grazie a voi a domani invece con un appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport la 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 Grazie.